Buongiorno a tutti amici del canale, come promesso siamo alla manifestazione di Roma dice Basta del 27 ottobre qui in Campidoglio, facciamo vedere l'evento tagliamo il cartello che è importante un attento grazie perfetto questo pure perfetto siamo a questa anche lui, anche lui ah sì, questo è importantissimo ci senti hanno bruciato esatto quindi come vedete siamo alla manifestazione contro la ragica in due anni, non ho ancora capito cosa ha fatto in due anni cosa non ha fatto se sa ma cosa ha fatto ancora è questo pure e oggi stiamo manifestando speriamo che serva a qualcosa un saluto da... un saluto da...